E' stata animata dal gruppo medievale di Ardara la festa che si è svolta nella chiesa di Sant'Antioco di Bisarcio a 20 km da Ozzieri lo scorso fine settimana. Si è così celebrata la storia di un amore tra arte, sapori e musiche del Medioevo con la Pericena a Bisarcio. Decine le comparse in abiti d'epoca che hanno danzato sulle musiche del gruppo i popoli dai mille colori, mentre le pietanze in rigoroso stile medievale sono state preparate dall'agriturismo Sattanca e Murosurruios di Ozzieri. Un'iniziativa che ha avuto il patrocinio dell'assessorato alla cultura della città di Ozzieri. Tra le iniziative, a corollario della manifestazione, lo spettacolo di gioccoloria di Matteo Ruzzo e l'interessante mostra che si riferisce all'età romanica di Lorenzo Franatti sulle facciate romaniche tridimensionali. I partecipanti alla Pericena di Bisarcio hanno anche potuto visitare gli scavi della scuola estiva di archeologia dell'Università di Sassari in quell'area, diretta da Marco Milanese, ordinario di archeologia medievale e dal funzionario di zona della soprintendenza Nadia Canu.